ciao bella gente io sono Pimoth benvenuti sul mio canale raga allora qua c'è poco da dire ma tanto da fare perché ho trovato altre challenge su tik tok con cui metterci alla prova siete caldi? beh io sai che mi piace fare queste cose anche a me peccato che parlo sempre lo guardate non le ho provate ancora perché sennò sarebbe troppo facile ok le guardiamo insieme e se ce la sentiamo se ci sentiamo così come dire furbi da farle furbi perché immaginano in partenza sono molto fisiche ecco molto fisiche ma disagianti? con quella faccia i miei video disagianti potrebbero diventarlo ok perfetto è quasi una certezza la prima è questa ma sei fuori non lo so non l'ho mai provata ma quella roba lì giù con la gamba andare giù così non lo so raga ma sei un cretino ma io ma scusa inizia tu inizia tu inizia tu non vedo l'ora che ti sfondi il cranio questo non mi sembra tanto palestrato tanto è però guarda come ce la fanno è anche sorpreso perché eh visto? se ce la fa lui ce la faccio pure io perfetto non vedo l'ora guarda è la sfida contro me stesso bisogna partire al contrario ti devi prendere la gamba e tirare su si ok allora ti devi tirare su pronto eh? si vai vai ma se già non riesci a tirarti su ma cosa vuoi fare il giro che non riesci neanche a tirarti su che ti stai cagando addosso si vede lontano un chilometro che fa un po' lascia andare tutto no ma perché secondo me c'è una questione di come mettere i piedi ah ah il piede ah beh ah beh partiamo bene scusa ma perché secondo me è la mia gamba che no ma Simone vai ok con questa ce la faccio lì si si vede attenzione ma se cioè ma se strappa ma se stirata ragazzi basta adesso basta ma adesso si stira comunque no e vabbè ho appoggiato la mano ma no ma se appoggi la mano sei già un cretino in partenza ma guarda che secondo me non è un cavolo facile eh non è facile secondo me non è facile raga non ridete perché non è facile eh anzi provate 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 già solo a fare il primo pezzo così già solo prendere la gamba già solo prendere la gamba no ma già solo fare il primo pezzo di girare su oh per carità per carità e poi cosa volevi fare il giro completo sto sudando quasi 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 poi manca ancora tutta la seconda parte però voglio solo sottolineare no adesso tu vai su e poi voglio vedere come dai il giro scusa eh ma adesso io voglio provare ma cosa va bene però sì e quando sei così vorrei anche che ecco adesso dai il giro adesso dai il giro dove vai no è l'equilibrio poi cosa devo fare? adesso devi dare il giro con la testa girare giù giri completamente fare un po' la bandiera eh vai vai giù eh aspetta opla ma no adesso non è che ti devi sbutta andare e lasciare andare tutto no perché ho paura che poi mi tira per le date le dimensioni e ho paura eh raga ma paura di cosa ma è che vado a piantire la testa sull'erba dai dai giù secco ma giù secco di testa ma secco no così dai il giro l'importante è che non molli la mano perché se molli la mano vai giù come un sacco di merda ma cos'è? ma dove va? vai fammi provare è un cracchino lei con i jeans ovviamente è comodissimo proprio comodissimo scelto proprio l'abito migliore opla attenzione opla attenzione attenzione ce la fa ti smerda ah che male qua addirittura è tortura partono unghie e poi si è sentito fom fom come ha zappato per terra io voglio vedere Paolo perché è facile screditare ma aspetti di provare opla attenzione no niente pianta delle botte con la punta no senta una fai provare l'altra eh vedi perché il campo di gamba è fondamentale forse l'altro forse l'altro attenzione allora c'è la postura è già più bella di Pimoth sempre mi fai ridere attenzione no niente oh ma è pesantissimo è pesante? per ora chi sta vincendo? no ma tu cos'hai vinto? cos'hai vinto? no però mi sono riuscito un po' a alzare i due centimetri scusa ma tu ma tu ma che due centimetri ah tutti e due zum pa pa zum pa pa zum pa pa che pezzo di verde no non è vero non è vero lo puoi rifare per favore che voglio vedere come hai fatto e non è neanche la mia gamba perché ci sono mancino non tolgo la maglietta per non c'è perché se no cosa devo farlo con l'altra gamba? voglio provare voglio rivederlo qua c'è la bar ma com'è possibile? no vabbè Simo Simo non c'è nulla aspettare no neanch'io no ma gira 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 non è finita di lasciare a parte che ci ha già battuto Simo come si fa? me lo spieghi? è una questione di equilibrio di baricentro beh anche un po' di forza nelle gambe sai come è? un po' di quadricipili ce l'ho fatta ce l'ho fatta ha lasciato andare tutta l'alergia adesso riprovo adesso riprovo ma come? ce l'ho fatta hai visto che ce l'hai fatta? hai visto che ce l'hai fatta? ce l'ho fatta ce l'ho fatta hai visto? ma com'è possibile? secondo me è proprio la voglia di battere Paolo bravo che ci ha fatto battere ma tanto se ti so mi ha fatto battere vabbè io straparlo però io ce l'ho di ginocchio siete secondi? ho paura a fare la seconda parte raga è la seconda parte è un po' tosta ho tanta paura allora adesso andiamo alla seconda c'è un'altra figura di merda in arrivo questo qua direttamente ah ma questo l'ho visto da Gianmarco è il sosio di Gian è il sosio di Gian quindi? metto il cubetto in bocca e dice il fungo ora io voglio capire se è fake o se è vero ah ok questo l'ho visto da Gianmarco goccia di limone goccia di limone sopra il cubetto si mette in bocca ed esce il fumo perfetto molto bene posso provarla prima io questa? va bene si prendo il limone si prendo il ghiaccio si lo spremi sopra ok è una scena disgustosa ma fumo non ne vedo no vedi che ma è fake becchissima sta cosa allora no niente mi stai solo allitando sulla legna ma cos'è che schifo ma cos'è come posso provare una cosa raga me la fate provare io si ho del ghiaccio vecchio nel senso che è tanto ghiaccio ma dice magari quello è freddo 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 esatto posso provare scusate si si ecco via le mani ok allora vai questo ok ok ma io no 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 è anche un po' così cioè me lo do un po' questo è questa è una cazzata questa è una cazzata è fake poi oh magari se noi che sbagliamo se qualcuno di voi ha provato e funziona voglio proprio che ci scrivete ci dite più che altro sono curioso se la terza della terza sfida a sto punto la terza è molto bella molto bella oddio ho già paura com'è difficile va bene se io ora vi mostro il tiktok hai capito praticamente da coricati bisogna sedersi senza toccare per terra con le mani va bene vediamo di nuovo il bradipo voglio provare prima io e se ci smarda no no raga mi sa che non mi smarda per niente e qua di nuovo addominali come non ci fosse un domani attenzione 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 aspetta che mi sento un po' incastro ma devi muo ma su alza sto culo aspetta non arrivi avanti no no tieni la sedia ma sì la tengo ma perché io sempre la sedia di me dai gira spingi un po' di addominali no ma questo è la candaratura così cagatosso io lo so questo è che vai indieto di nuovo ma famite sta partorendo attenzione ma la sta tenendo ma è che tanto posso anche tenere uscivano le mani no non ci siamo mica ma cosa fai aspetta ma c'è raga ma vedi aspetta porca vacca porca vacca ma no ma vedi che mi ho spatto tu no no aspetta ma no ma aspetta cioè sei lì incastrato tra l'altro campanile è poco fastidioso no ma secondo me sbaglio qualcosa devi provare tu vediamo è difficile di già mettere le gambe ma no è una capriola all'indietro raga aggacciati alla sedia no ma poi guarda come guarda come ne esce sembra veramente che ti hanno partorito adesso io mi sento solo tanto sfatto raga mettete l'hashtag desfusumia lo so che non sapete cosa vuol dire ma è questo scrivete hashtag desfusumia è questa situazione qua ecco ecco chi è piemontese lo capisce desfusumia sfatto raga io so solo una cosa in questo momento mi sto sentendo abbastanza deficiente ma no ma no ma non perché non perché io non sia riuscito a fare queste imprese perché le scelgo raga allora io vi chiedo il massimo supporto per questo video perché esatto mi è costato dieci anni di vita non sapevo quando ero lì sotto se ci avrei fatto arrivare questa sera oppure no però fortunatamente tutto bene quello che finisce bene vi ricordo di iscrivervi anche al mio canale tiktok che ovviamente ve lo lascio scritto qua sotto così non potete dimenticarvelo cosa dire raga se ancora avete fatto iscriviti al canale e lasciate un mi piace a questo video come sempre ci rianco al prossimo appuntamento sempre alle 14.15 un saluto